E ciao fans! Benvenuti in questo nuovo video in cui voglio parlare di due agg simpatici della Oleg, un'azienda americana. Era un po' scettico nel comprarli perché comunque si può sempre ovviare con diversi mezzi, però osservando la qualità mi sono convinto e in effetti sto usando in particolare il F-Fork numero 102 per tenure vintage, quindi specializzato nel Mark VI ma ci sono anche altri modelli per sassofoni diversi. È un aggeggio che serve a facilitare il movimento della X del sassofono. Posso di fare questo movimento. Noi non spostiamo il porpastrello dalla madreperla ma semplicemente per usare la X facciamo questo movimento che poi è un movimento comune nei sassofoni più moderni che sono stati pensati dopo gli anni 80. Quindi questo aggeggio, diciamo questo gadget, serve proprio a minimizzare il movimento, una facilitazione che in velocità torna molto utile. Devo dire che è proprio così. Come potete osservare lo smalto dorato del gadget è andato via, quindi è sintomo di un utilizzo almeno di un paio d'anni. Non si è mosso minimamente. La vite che stringe la madreperla è dotata dell'apposita chiave a brugola e devo dire che non si è mossa nemmeno di un millimetro. È stabile, ferma, non dà problemi. Per quanto riguarda il montaggio, ogni sassofono è sempre diverso. Ho dovuto sistemare un po' il feltrino che si trova al di sotto della chiave per evitare che al ritorno di questa ci fosse un rumore metallico, ma è comunque fattibile anche da da sé. Insomma non c'è bisogno di un riparatore o di un tecnico per montarlo. In secondo momento ho anche acquistato, visto che mi ha convinto, il Razer del Re. E devo dire che anche questo prodotto è un prodotto utilissimo. C'è sia il Razer con uno scalino più alto che è il numero 109, ma anche altri che sono molto più bassi e che portano il Mark 6 a essere un sassofono proprio moderno. Infatti confrontandolo con un altro sassofono, il Mark 7, devo dire che le distanze adesso si equiparano. Nel momento in cui lo utilizzo non devo fare un movimento ulteriore, ma basta appoggiare il palmo e quindi in velocità la mano si muove molto poco e quindi riusciamo ad essere più agili nel tempo. Quindi consiglio anche questo Razer della Oleg numero 109. Questi gadget possono sembrare oggetti dei sassofonisti viziati, come si suol dire, ma rispetto a tutta la storia di oggetti tipo legature, vari tipi di ance, che sono un po' le fisse di noi sassofonisti, posso dire che questi gadget si discostano un po' dagli oggetti inutili perché davvero aiutano e possono in qualche modo prevenire dei movimenti troppo esagerati che possono portare anche a problemi di natura tendinea. E quindi consiglio vivamente Oleg nella vostra pratica musicale. Un bacio a tutti quanti, ciao fans!